Una proteina come campanello d'allarme per l'aggressività del coronavirus, meno ce n'è più alto il rischio di ammalarsi gravemente. L'importante scoperta è stata effettuata dall'unità di ricerca, emostasi e trombosi di casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo. Lo studio è stato condotto su 77 pazienti con età media di 61 anni, positivi al covid tra marzo e aprile scorsi, ricoverati all'ospedale di San Pio. Il virus causò la morte di 4 persone. I ricercatori si sono concentrati sulla proteina ADAMS13. I pazienti con il covid cosa avete notato? In questi pazienti abbiamo una riduzione rispetto ai valori normali di questa proteina di circa un 30%. Sono questi però i pazienti che poi hanno più problemi clinici e che possono anche evolvere verso una forma più grave di malattia. Qual è l'aiuto che può dare appunto questa scoperta? Se noi in fase di ricovero nei primissimi giorni di degenza riusciamo a dosarla e eventualmente a monitorarla, possiamo identificare con una buona probabilità i pazienti che avranno più complicanze, anche temibili. I nostri ricercatori, i nostri clinici si sono messi insieme in equip coordinate dalle direzioni, istorando un database che è la base di uno studio osservazionale che si chiama COVID-19 SGR. Questo database condiene tutti i parametri clinici dei pazienti dal momento del ricovero fino alla dimissione. Quindi abbiamo potuto seguire il decorso della malattia e evidenziare eventuali marcatori che danno una prognosi favorevole o sfarolevole.